Serie B-Win, tutti i colori della passione. Piove e tanto a Brescia, ma per la 39esima e quart'ultima giornata di Serie B-Win, alla riga Monti va in scena comunque il match più importante della giornata, Brescia-Varese. Gara fondamentale per l'ambizione dei padroni di casa, Calori e i suoi ragazzi cercano una vittoria che permetterebbe loro di non abbandonare il sogno play-off. 3-4-1-2 per le rondinelle con Elka Durri alle spalle di Jonatas e Piovaccari. Risponde il Varese dell'ex Maran con il suo collaudato 4-4-2, ancora panchina per corti, spazio a Cacciatori in mezzo al campo. Dirige il signor Nasca della sezione di Bari. Parte bene il Varese che all'ottavo si rende protagonista del primo squillo con Zecchin, il mancino del centrocampista termina alto sopra la trasversale. Ma la prima vera risposta, il Brescia passa, Jonatas copre bene il pallone, poi serve Elka Durri, la penetrazione del Marocchino e il diagonale vincente. 1-0 Brescia, nulla da fare per Bressan. Bella la combinazione sull'asse Jonatas e Elka Durri, come spesso ci hanno abituato i due giocatori delle rondinelle. 1-0 Brescia. Alla diciassettesimo Piovaccari in ombra per tutto primo quarto d'ora, prova lo sfondamento, esce bene Bressan, nulla da fare per Piovaccari, un contrasto che farà sì che il portierone venga poi sostituito da Morro nel corso della prima frazione. Qui una buona occasione per il Varese sui piedi di Cacciatore, nulla da fare per lui, il campo che incide sul rendimento dei giocatori. Qui è Fausto Rossi che fa partire un bel destro, si oppone ancora a Bressan poco prima di essere sostituito. Maran indica la via del gol ai suoi. Qui è Granoce che però non coglie le indicazioni del tecnico, non coglie l'appuntamento con il gol. Grande occasione per il Diablo Granoce. Qui invece Grillo con una bordata di sinistro per l'ex CSKA Sofia. E poi grande azione di Rivas, il piattone vincente di Zecchin al quarantatresimo. 1-1 Varese. Grande l'azione di Rivas che poi serve al centro. Zecchin, uno fra i migliori in campo, l'argentino Rivas. E poi Zecchin che sigla il suo quarto sigillo stagionale. 1-1 con il quale si chiude la prima frazione. Nella ripresa molte meno emozioni. Si parte con una buonissima occasione per Pablo Granoce. Fuori dallo specchio della porta, grandissima occasione ad Arcari battuto. Qui poi il Brescia con un controvedere di Piovaccari. Il contatto con Grillo. Per l'arbitro non c'è rigore, protesta di Piovaccari. Nulla da fare. E al 76esimo rigore per il Varese. Questa volta sì, per Nasca c'è il penalty. Il fallo di mano ingenuo di Caldirola, del difensore di proprietà dell'Inter. Sul dischetto Terlizzi è freddo e sigla il suo terzo gol in stagione. Vantaggio Varese. Un vantaggio anche insperato perché Marana aveva appena sostituito Neto Pereira per mettere a centrocampo Corti. Chiaro segno di come il pareggio andasse bene al tecnico del Varese. Poi il forcing finale del Brescia guidato dal neoentrato Cordova. Qui è Jonathan San Novantesimo con un pallonetto di esterno destro. Nulla da fare ancora per le rondinelle che quantomeno ci mettono orgoglio per giungere al pareggio. Ancora Cordova e ancora Moreau che si distende e manda in calcio d'angolo. Termina qui al Rigamonti. 2-1 per il Varese che è ormai quasi sicuro dei playoff. Campionato che invece termina qui per il Brescia che non ha più niente da chiedere a questa stagione.